Sabato 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Confagricoltura Donna è in prima linea, insieme a Soroptimist International d'Italia, per fermare la violenza di genere, mettendo in campo l'iniziativa Clementine Anti-Violenza. Anche quest'anno saremo impegnate in tante piazze italiane, con le Clementine, simbolo della campagna dell'ONU Orange the World, distribuiti in cambio di offerte per sostenere i centri anti-violenza sul territorio. A Cremona saremo presenti sabato 25 novembre dalle 9 alle 14, presso la Galleria 25 Aprile. L'incasso sarà interamente devoluto al centro anti-violenza AIDA di Via Palestro, che svolge un lavoro prezioso tutto l'anno. Le imprenditrici di Confagricoltura Donna Lopartia, insieme alle volontarie di Alita e Soroptimist, ti aspettano sabato. Ognuno di noi può fare la propria parte. Con un piccolo gesto puoi dare un aiuto concreto. Sosteni anche tu i centri anti-violenza. Grazie per l'attenzione.